Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della sportiva trail vest, lo zaino col quale ho affrontato tutte le ultra trail di quest'anno. È lo zaino che la sportiva consiglia appunto per gli ultra trail, uno zaino da 11 litri che mi è piaciuto veramente veramente tanto, che vado a raccontarvi in questa recensione. Iniziamo dalle caratteristiche tecniche di questo zaino, come dicevo parliamo di un zaino da 11 litri che pesa per l'esattezza 290-300 grammi, che per uno zaino pensato e ingegnerizzato per farci delle ultra maratone è giusto diciamo come peso, né troppo poco né troppo tanto. Io con questo zaino ho utilizzato, ci farei benissimo anche un tour de jean, adesso vi mostro il perché. Vado ad escrivervelo. Prima cosa troviamo sulla parte posteriore esternamente un laccio dove possiamo noi andare a inserire un indumento e chiuderlo, così da poterlo prendere e rimettere molto velocemente durante le gare. Troviamo sul lato destro una zip che corre a tutta lunghezza con un'ulteriore tasca interna dove possiamo andare a riporre, io per esempio ci metto la torcia, ci metto il telo d'emergenza e via dicendo. Cose che posso fruire molto velocemente ma comunque molto grossa questa tasca, soprattutto in lunghezza, non tanto in altezza e si riesce a utilizzare molto bene. La tasca principale invece non si apre a tutta lunghezza dello zaino ma parte da in alto e poi arriva giù a tutta lunghezza e si apre come dicevamo completamente. Io qua ci sono andato a mettere veramente di tutto, lo zaino è super capiente, vi consiglio di guardare l'attrezzatura che mi sono portato per la Valmalin Contralista Strasse per capire veramente quanto è capiente, soprattutto nella parte posteriore. All'interno poi troviamo anche la possibilità di andare a inserire una sacca d'acqua da due litri tipo camelback con l'apposita uscita sul davanti per andare a bere. Veramente ottimo, super capiente, personalmente mi piacciono anche i colori così nero con il logo da sportiva giallo, si vede molto bene, esce anche molto bene in foto volendo. Fatto veramente molto bene e poi troviamo qui un laccetto che ci permette comunque di tenerlo su, può sempre tornare comodo. Altra cosa che mi è piaciuta molto del posteriore è il materiale con cui ho costruito. Tutta questa parte attorno dove c'è la cerniera fino in basso è fatta molto traspirante in modo tale da far uscire il calore e tutto il sudore che noi generiamo col corpo e anche nel caso dovesse per esempio piovere da qua potrebbe uscire benissimo anche l'acqua che dovesse entrare. Quindi anche da questo punto di vista è ingegnerizzato veramente molto bene. Passiamo però ora sulla parte anteriore dello zaino che anche questa mi ha veramente stupito. Allora troviamo delle tasche qua sotto chiuse con una cerniera dove ci sta veramente tantissima roba. Cioè qua dentro io posso andarci a mettere 7-8 barrette come niente o un po' di barrette, un po' di gel e ce ne sono davvero tante. Le tasche sono due. Cioè io qui dentro posso mettere il cibo per 10-12 ore, una roba di genere. Cioè veramente un'enormità. E ancora più c'è un'ulteriore tasca dietro dove oltre ad andare a inserire i bastoncini perché questo zaino ha i bastoncini che si portano sul davanti che adesso vi farò vedere. Una volta inseriti i bastoncini c'è ancora un po' di spazio volendo andare a metterci ancora qualche barretta o qualcosa in più. È uno zaino veramente super capiente dove ci sta tantissima roba e veramente pensato per le ultra. Come dicevo lo zaino ha i bastoncini che si mettono sul davanti. Io adoro questa feature perché i bastoncini li prendo e li ripongo molto spesso durante le gare quindi poterlo avere davanti è veramente comodo. È molto semplice, il bastoncino si va a inserire nella parte bassa col puntale e poi qua in alto si aggancia a questa semplice clip che si va a chiudere attorno al bastoncino e lo tiene fermo. Io ho utilizzato questo zaino con i bastoncini inserito per tutta la prima parte della Garda Trentino Trail una parte molto veloce e i bastoncini non si sono mossi e non mi hanno dato alcun tipo di fastidio quindi anche questa ingegnerizzazione, questa pensata su come mettere i bastoncini è veramente promossa. Poi salendo troviamo da una parte e dall'altra le tasche dove si sta a inserire delle soft flasche da 500 ml anche queste restano dentro senza nessun problema, classiche soft flasche. E sopra troviamo ulteriori due taschine dove o si può andare a inserire qualche altro oggetto qualche altra barretta vi dicendo oppure io nella VOOT sono stato a inserire il GPS banalmente. Come si allaccia? Ve lo vado subito a mettere così ve lo faccio vedere perché qui purtroppo abbiamo una piccola caratteristica che non mi è piaciuta. Allora, questa fettuccia bassa, ok, si va ad attaccare qua e la si tira. Questa fettuccia non mi è piaciuta, dico la verità, io correndo questa fettuccia si è andata molte volte ad aprire e non aprire nel senso che si apriva letteralmente come se io andassi a sganciarla ma si apriva nel senso che si allentava. E questo mi dà un po' fastidio, non dico che lo zaino non stesse bene addosso però non era più così fasciante. È una piccola caratteristica però vi dico alla lunga mi è capitato, ho notato molte volte che ero lì ogni tanto a doverla tirare per ristringere lo zaino addosso. Piccola caratteristica che secondo me è comunque un po' da tenere in considerazione perché magari se è una gara molto lunga può essere una noia. E poi successivamente troviamo qua in alto la possibilità di andare ad agganciare questo cordino in due punti e successivamente andarlo a stringere qua in basso. Quindi anche qua si può benissimo fasciare addosso, questo zaino veste a gilet e sta veramente fermo, senza effetto rimbalzo e non dà fastidio anche dopo ore e ore di utilizzo. Sempre per quanto riguarda la parte di personalizzazione dello zaino ovvero come andare a stringerselo intorno al corpo, troviamo qua sulle due lati anche un'ulteriore fettuccia da poter andare a stringere per andare ad avvicinarsi lo zaino al corpo se dovessimo prendere magari una taglia un pelo più grosso. Teniamo conto che di questo zaino esistono due taglie, la SM e la LXL. Quindi già in partenza la sportiva ha fatto una differenziazione di grandezza dello zaino per diversi tipi di persone. Quindi in conclusione, cosa ne penso di questo zaino? Io ve lo consiglio davvero tantissimo, va bene il prezzo non è proprio alla portata di tutti parliamo di 140 euro, però per come è costruito? Ah per la traspirabilità perché non ve ne ho parlato ma questo zaino così come è costruito ha tutte le parti super traspiranti sulla schiena, sullo spallaccio, davvero l'ho utilizzato in giornate molto 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 calde e traspira benissimo senza che mi sono mai andato a sentire la schiena bagnata o cose simili e oltretutto mi stavo anche indicando di dirvi che qua sotto c'è una fascetta è una fascia aggiunta dalla sportiva con un materiale ruvido che ne aumenta la stabilità attorno al corpo e ne diminuisce sempre di più il effetto rimbalza che questo zaino praticamente posso dire che non ha. Perciò quindi cosa ne penso? Consigliatissimo soprattutto perché devi fare ultra trail davvero ultra come dicevo io penso al Tour de Janeiro, a Speedpeak, a gare che vanno oltre 300 km Perciò ragazzi nella speranza di essere stato esauriente ed esaustivo io vi ringrazio per aver guardato questo video e se volete ci vediamo al prossimo Ciao!